superiore avete la possibilità di contattare questi grandi numeri di persone, ovvero la palestra che ha 10 filiali, ogni filiale ha 1000 persone, sono 10.000 persone, avete la possibilità di contattarli, quindi ulteriore possibilità di guadagno. Queste sono le tre tessere, di solito ci soffermiamo, stasera acceleriamo un attimo, sono tre tessere invece che hanno, sono degli esempi, in Turchia sono diversi i football club che hanno deciso di utilizzare la carta Flexcom per tanti motivi, il football club che pensa solo a guadagnare visto che è un'azienda, il football club invece che pensa a controllare meglio i tifosi quando sono all'interno dello stadio, quante volte vanno, per fare magari poi delle offerte speciali per loro, per diversi motivi, hanno deciso di avere carte Flexcom, quindi all'ingresso c'è il famoso lettore di banda magnetica, pip, entra la persona, sappiamo a che ora è entrata, sappiamo a che ora esce, un controllo migliore per l'azienda, questo è importantissimo secondo me. Questo è un piano compensi, revenue generation plan, ovvero la nostra grande scalata verso il presidential team, in Turchia sei presidential team nel primo anno di lavoro, nei primi due anni di lavoro, quindi chiunque è in questa sala in questo momento ha le serie potenzialità per diventare presidential team, organizzato bene, con tanto impegno e tanto lavoro, perché no? Quindi si parte da business distributor, poi team member con i vari benefici, marketing manager, sales manager, vari benefici, sales director, siamo qui a questo punto quando la nostra rete già genera intorno ai 100 mila in fatturato, abbiamo il 20% su tutte le persone che andremo a inserire poi e iniziamo a prendere delle vere e proprie percentuali e addirittura in casi specifici solo al raggiungimento di determinati target delle auto aziendali che io ho visto, sono quasi tutte grigie, non so perché, però sono